Ciao a tutti e ben ritrovati con Auto Occasioni, oggi i nostri preziosi consigli sulle quattro ruote arrivano direttamente da Locauto 2, unica concessionaria a Peugeot da oltre 50 anni sul mercato a offrire ben 8 anni di garanzia sul nuovo. Ci troviamo nella sedia di Rosta in corso Moncinizio 79 a fare l'inore di casa, ritrovo come sempre Stefano Ezzi, ciao ben trovato. Ciao Palma, ciao a tutti i telespettatori. Locauto 2, oltre alle sedi dislocate sul territorio piemontese, ricordiamo la sede storica di Torino in strada Pianezza 275 o la sede di Bircherasio o di Lumiloni in provincia di Novara, nuova apertura, nuova sede per offrire ai clienti sempre più servizio, la sede di Torino in corso Rosselli 181, siete tutti invitati a visitare la nuova sede. Locauto 2 dicevamo oltre 50 anni sul territorio piemontese, 8 anni di garanzia sul nuovo ma tantissimi sconti, tantissimi motivi per passare questo mese da Locauto 2. Esattamente, abbiamo delle promozioni questo mese molto ma molto interessanti, per quanto riguarda le autovetture abbiamo la possibilità di offrirvi fino a 5.500 euro di sconto e la possibilità di avere un finanziamento con dei tassi che partono dal 2,99. Per quanto riguarda invece la gamma dei veicoli commerciali abbiamo sconti fino al 40%, la possibilità di prendere il pianale su misura per il vostro veicolo ha soltanto un euro e anche un leasing tan 2%. Sconti particolari ma anche finanziamenti particolari, ricordiamo che Locauto 2 si differenzia anche per l'usato d'eccellenza, grande esposizione di tutte le marche. Esattamente, tra l'altro tutte le nostre macchine sono assolutamente selezionate, sono garantite con la possibilità di prolungare la garanzia addirittura fino al 36esimo mese e cosa molto importante sono tutte ricondizionate. Bene Stefano, allora non perdiamo altro tempo, ti cedo il microfono per la scaletta firmata Locauto 2, state con noi. Iniziamo con le nostre proposte a chilometro zero, Peugeot 4.700 2.2 da 156 cavalli, 4 ruote motrici, oltre 10.000 euro di sconto. E proseguiamo con un'altra nostra proposta, dove anche qui abbiamo un risparmio oltre 10.000 euro, 508, cambio robotizzato, chilometri zero. Fiat Panda 1.3 Multijet nell'allestimento Emotion, 4 ruote motrici, 15.500 euro. 208, 1.4, 16 valvole GPL, immatricolata soltanto il 30 di settembre, chilometro zero. Passiamo adesso alle nostre proposte aziendali. Nissan Qashqai 1.6 gasolio, 7 posti nell'allestimento a centa, 35.000 chilometri, 17.900 euro. Proseguiamo con le nostre vetture aziendali, Peugeot 3.800 nell'allestimento Active, 1.6 gasolio da 115 cavalli, soli 23.000 chilometri, 17.900 euro. Ideale per la famiglia, 5.800 Active, 1.6 HDI, 115 cavalli, 21.000 chilometri, anche questa 18.500 euro. Ancora una vettura aziendale, Peugeot 208, benzina, 5 porte, soli 20.000 chilometri, 9.500 euro. Passiamo adesso alle nostre proposte come vetture usate. Volkswagen Golf, nell'allestimento Highline, 1.6 gasolio, cambio automatico del 2011, 14.500 euro. Ideale per chi ha bisogno di caricare Volkswagen Caddy, alimentata a metano, del 2012, 14.500 euro. Continuiamo con un'altra proposta ecologica. Citroën C4, 7.900 euro, vettura alimentata GPL. Ancora una vettura GPL, Fiat Grande Punto, nell'allestimento Dynamic, 7.900 euro. Mercedes, classe A, cambio automatico, 1.6, 92.000 chilometri, 8.300 euro. Honda Civic, 1.8 VTEC, del 2009 la sua immatricolazione, 5.900 euro. Subaru Outback, versione full option, all'interno in pelle, clima automatico, tutto quello che si può avere su un'automobile, immatricolata nel 2009, spendiamo 11.500 euro. Passiamo alle giapponesi, una fantastica Corolla, 82.000 chilometri, soli 5.500 euro. Vettura unica nel suo genere, una Toyota Celica, 1.8, 16 valvole, VT, 143 cavalli, 4.200 euro, vettura personalizzata come poche, interna in carbonio e bicolore esterno. Toyota Vansys, station wagon, full optional, tutto quello che si può avere su un'automobile, immatricolata nel 2009, c'è da spendere 10.900 euro. Open Meriva, 1.6, chilometri 75.000, macchina da spendere 3.900 euro. La piccola di casa Fiat, Fiat 500, 1.2 lounge, 64.000 chilometri, a soli 7.400 euro. Molto bene Stefano, questi non erano che alcuni esempi delle tantissime opportunità sull'usato, usato con garanzia estendibile fino a 36 mesi. Da Lockout 2 naturalmente è disponibile l'intera gamma Peugeot, con tanti veicoli in pronta consegna e soprattutto pronti per essere testati su strada. Da non perdere questo mese sconti e promozioni, ricordiamoli. Esattamente, per quanto riguarda le autovetture abbiamo delle opportunità di sconto fino a 5.500 euro e la possibilità di sfruttare un finanziamento con dei tassi agevolati dal 2.99. Per quanto riguarda invece quelli che sono i veicoli commerciali abbiamo uno sconto fino al 40% e un leasing al 2%. E poi non dimentichiamo un'esclusiva Lockout 2. Annotatolo sulla vostra agenda, Ben, 8 anni di garanzia sul nuovo. Esattamente, quindi noi diamo 8 anni per le vetture da noi vendute finché il tagliando rimane fedele. Bene, una vetrina completa quella di Lockout 2, una vetrina a 360 gradi, prodotti, servizi, vetrina che potete venire ad apprezzare non solo nelle sedi che già sicuramente conoscerete, ma attenzione, nuova apertura, nuova sede a Torino in corso Rosselli 181. Siete tutti invitati per venire ad apprezzare tutte le offerte, tutti gli sconti firmati proprio Lockout 2. Io ringrazio e saluto Stefano. Ciao Palma, ciao a tutti i telespettatori. Vi ricordo le sedi, questa è quella di Rosta di Corso Moncinesio 79, naturalmente la storica di Torino in strada Pianezza 275, Bricherasio e Lumelonio in provincia di Novara. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.